Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Squillerà il telefono prima o poi. Spero per te che quel giorno tu non sia in casa. Il numero che apparirà sul display non sarà registrato nella rubrica del tuo apparecchio telefonico, eppure ti sembrerà un numero noto, quasi familiare. Probabilmente penserai sia quello di un vecchio amico che non senti da tempo. Così, senza nessun timore, alzerai quella maledetta cornetta. Mi auguro vivamente che tu non lo faccia, ma, in fondo, non ho alcun dubbio che alla fine lo farai. La voce dell'altro capo del telefono sarà calda, armoniosa e molto, molto sexy. Il solo ascoltarla risveglierà in te degli istinti sessuali e selvaggi che s'annidano latenti nel profondo del tuo animo. Nel giro di pochi minuti perderai la capacità di ragionare razionalmente, facendo di guidare come un primate da quegli istinti primordiali. La centralinista che chiamò me aveva un leggero accento francese, cosa che personalmente mi manda fuori di testa. Era cordiale e simpatica, aveva un modo di parlare estremamente sensuale. Devi capire che è tutto studiato a tavolino, in modo diabolico. Loro sanno tutto di te. Conoscono tutti i tuoi gusti in fatto di donne o di uomini. Conoscono i tuoi interessi, i libri che leggi, le ricerche che fai su internet, i film e le serie tv che più ti appassionano. Sanno come passi le giornate, dopo il lavoro o dopo la scuola, a guardare programmi che narrano di storie occulte e misteriose. E che la notte prima di addormentarti leggi racconti di Edgar Allan Poe o di Lovecraft, le loro indagini di mercato sono precise e approfondite. Le persone come te, quelle con interessi simili ai tuoi e ai miei, sono la tipologia di clienti più adatte al loro prodotto. Siamo quelli che non riusciamo mai a dire no alla loro offerta. Quella voce, così ammaliante, conoscerà alla perfezione il modo in cui deve interloquire con te e le cose che dovrà dire per fare in modo che tu, nonostante l'iniziale disappunto, continui ad ascoltarla interessato. Tutto di quella voce sarà costruito per far colposo di te. Il tono, l'intensità, il ritmo, l'accento e i termini che usa. So che in questo momento penserai di essere capace di gestire una telefonata con una centralinista. avrai già parlato chissà quante volte con venditori di ogni genere di prodotto, assicuratori, mediatori e gestori telefonici più o meno capaci, riuscendo comunque ogni singola volta a rifiutare in modo garbato ma perentorio alle loro vantaggiosissime offerte commerciali. Ti assicuro però che da quella voce e da ciò che verrà dopo non sarai minimamente in grado di difenderti. Ma non preoccuparti, sarà comunque una telefonata piacevole, forse la telefonata più bella della tua vita. La centralinista in questione saprà essere coinvolgente nei suoi argomenti quanto basta che tu continui ad ascoltare. Sarà talmente dotata di carisma e di ottime doti comunicative e persuasive che quasi non farei caso al fatto che sta cercando di venderti un pacchetto pay tv che sembra, guarda caso, essere fatto apposta per le tue esigenze e i tuoi interessi. Il tutto per pochi spiccioli, un prezzo che solo a pensarci ti sembrerà ridicolo. Senza rendertene conto, quasi ipnotizzato, accetterai senza riserve la settimana di prova gratuita del nuovo decoder. Io, nel profondo dell'animo, spero che tu abbia la forza di dire no alla persona dall'altra parte del telefono. Solo poche ore dopo suonerà il citofono, sarà il postino con un pacco per te. Con sorpresa scoprirai che dentro la scatola c'è il decoder nuovo di zecca che aspettavi e con esso diverse centinaia di pagine che compongono il contratto di abbonamento. Averlo ricevuto in modo così celere dovrebbe farti suonare un campanello d'allarme o quantomeno sembrarti un po' strano, ma sarai così preso dalla curiosità e dall'eccitazione da non pensarci più di tanto. Così collegherai il decoder al televisore. Una volta acceso, ti si aprirà una finestra sul nuovo fantastico mondo, un modo diverso di guardare la televisione. Troverai migliaia di canali, unici nel loro genere, intelligenti possiamo dire. Ognuno trasmette decine di programmi sconosciuti, mai visti prima, intriganti e appassionanti. Ciò che rende questi canali intelligenti è che le reti modellano le proprie trasmissioni e gli orari di riproduzione secondo le caratteristiche e le esigenze del telespettatore. Il decoder sembrerà leggere nella tua mente, manderai in onda il programma che vorrai vedere quando lo vorrai vedere. Penserai che tutto questo sia eccezionale. Lo ammetto, lo pensai anch'io a quel tempo. Comodo, seduto sul tuo confortevole divano, inizierai a fare zapping col tuo nuovo giocattolino. Scoprirai l'esistenza di serie tv, film e programmi televisivi che nemmeno immaginavi. Senza rendertene conto, passerai ore e ore, giornate intere, immobile come uno zombie davanti allo schermo del televisore. imbambolato, stregato, assorto da quella moltitudine di trasmissioni inedite e appassionanti. Sarà un processo graduale, ma allo stesso tempo repentino e inarrestabile. La settimana di prova volerai in fretta. Sarà facile per te firmare quel maledetto contratto, così come lo fu per me. Ovviamente non leggerai un singolo rigo di quel contorto insieme di paragrafi e postille di cui è composto. A che serve leggere centinaia e centinaia di pagine di noiosissime condizioni contrattuali? Beh, se posso darti un consiglio, sarebbe un bene per te prendere quell'ammasso di carta, strapparlo e gettarlo via. O almeno trovare la pazienza per leggerlo. Ci vorranno solo un paio di ore, o forse di più. Ma dopo averlo fatto, magari, rimanderei indietro il decoder e continuerai come se niente fosse con la tua normale, prevedibile e sicura vita. Ma anche questo, sono certo che non lo farai. Ricordo ancora l'emozione provata ai primi giorni, quando acquistai il decoder. Al tempo avevo ancora un lavoro, una famiglia, degli amici, una vita normale, insomma. Non vedevo l'ora di concludere le mie incombenze lavorative per tornare a casa e godere della visione di quel telefilm e reality show che tanto mi appassionavano. Piano piano, o forse in fretta, non ricordo bene, le cose cambiarono. La voglia fremente di tornare a casa e guardare la tv si trasformò in una sorta di ossessione televisiva da risvolti drammatici. Fu come una droga. Ne volevo sempre di più. Sempre di più. I momenti di relax davanti al televisore divennero la mia routine quotidiana. Sentivo l'irrefrenabile bisogno di estranearmi dal mondo reale e chiudere la mente in quell'universo di spietata e cruda finzione che, a poco prezzo, se si parla di denaro, avevo comprato. Mi staccai inesorabilmente dai miei effetti, persi del tutto interesse verso i miei hobby e le mie passioni e, ovviamente, cali di attenzione e produttività anche nel lavoro che, come potrei immaginare, persi dopo poco tempo. A causa di questa mia ossessione, mia moglie andò via di casa, portandosi con sé i nostri bambini e persi contatto con i miei amici, anche con quelli più cari. Se ti racconto questa mia esperienza, non è per metterti al corrente dei miei fatti privati né tantomeno per installare in te un sentimento compassionevole dei miei confronti. L'unico mio intento è quello di metterti in guardia perché, così come è stato per me e per tanti altri, questo è ciò che accadrà se firmerai quel contratto. «Una volta apposta la tua firma sarà troppo tardi, non c'è modo di recedere dalle condizioni contrattuali». Chiudendoti in quel mondo televisivo di fantasia, aprirai porti e camere popolati da ossessioni folli e paure primordiali, stanze oscure che dovrebbero rimanere chiuse. «Ma voglio confidarti un segreto. Quel mondo così coinvolgente e appassionante il giorno, di notte cambia totalmente faccia, mostrandosi per quel delirio inquietante che realmente è. E scoprirai tuo malgrado che la programmazione notturna è totalmente diversa da quella diurna. E anche questo sarà un processo graduale e inevitabile». Comincerà tutto in maniera strana, andrà in onda programmi di dubbia moralità nei canali di intrattenimento, combattimenti clandestini di indescrivibile violenza nei canali sportivi e filmini amatoriali di umilazioni e sottodizioni da risvolti pornografici nei canali di persone adulti. Vedrai sangue, molto sangue, occhi segnati da dolori lancinanti e vite crudelmente portate via. Queste visioni succederanno in testa ad animo adrenalinico e ansioso. La curiosità comunque avrà la meglio sul buon gusto e sulla tua ragione. Continuerai a guardare senza schiodarti un istante dal divano. Programmi dalle fattezze magabre e angosciose che, notte dopo notte, degenereranno in un turbine di violenza al limite del raccapricciante. Inevitabilmente il decoder memorizzerà il tuo gradimento nella visualizzazione di questi particolari programmi, proponendoli anche di giorno. Riscoprirai tuo malgrado che guardarli 24 ore su 24 diventerà la tua unica ragione di vita. Personalmente, cominciai ad intuire che qualcosa non andava quando una notte, facendo zapping fra quelle migliaia di canali, mi imbattei in una visione a dir poco inquietante per quanto bizzarra e priva di senso. La scena era ambientata in una piccola e buia stanza che, basandomi dall'inquadratura delle videocamere, dava l'impressione di essere priva di porte e finestre. La ragazza che vi si trovava all'interno era completamente svestita. Immagino dovesse fare molto freddo lì, poiché la ragazza tremava e batteva i denti di continuo. Aveva gli occhi sgranati, fuori dalle orbite, e quasi non batteva le palpebre. Il suo viso, l'apparenza del tutto inespressivo, tradiva di tanto in tanto impercettibili smorfie di dolore. Stava lì, in piedi, mentre con le mani graffiava, in modo lento ma costante, la parete di fronte a lei, consumandosi le unghie polpastrelli che ormai avevano macchiato di sangue color rosso scuro i vecchi mattoni del muro. La scena, così come la sto raccontando, andò avanti diverse ore, senza cambiamenti. Rimasi a guardare quella ragazza, come imbambolato, per tutta la notte. Ma questa non è l'unica cosa bizzarra a cui ho avuto la sfortuna di assistere. Passai un'altra di quelle notti guardando un ragazzo, chiuso in quello che pareva il sudicio bagno di un adogrill, intento a lavarsi energicamente il viso. La scritta in sovraimpressione, che appariva a intermittenza sulla parte in basso a destra dello schermo, indicava che la ripresa fosse in diretta televisiva e che avveniva in tempo reale. Il ragazzo prestava particolare attenzione alla pulizia della zona intorno agli occhi, sfregandosi le palpebre, gli zigomi e le sopracciglia in modo eccessivamente energico. La telecamera doveva essere montata sullo specchio sopra il lavandino, in modo da avere un'inquadratura frontale del ragazzo che sembrava essere stizzito per quanto fastidio provasse. Era come se cercasse di ripulire qualcosa che, nonostante tutto il suo impegno, non andava via in nessun modo. Anche questa scena andò avanti per diverso tempo, finché, senza alcuna ragione, il ragazzo cominciò a tirarsi una palpebra con le dita, come volessero strappare dalla faccia. L'operazione fu lunga e ovviamente doveva essere molto doloroso, ma la cosa agghiacciante era che, nonostante il sangue gli colasse tutto dentro l'occhio e la palpebra fosse strappata per metà della sua lunghezza, continuava a gridare dal dolore e, dopo pochi istanti, ridere sonoramente, soddisfatto della sua opera. Terminato con la prima palpebra, fece lo stesso con la seconda. Potrei scrivere pagine intere raccontando di tutti gli orrori che ho visionato per mezzo televisivo, ma non lo farò. Ti basti sapere, però, che le cose degenerarono presto. Stupri, omicidi, torture e multilazioni. La televisione mi ha mostrato squarci di vita reale e malata, senza filtri, crudele e malsana. Vorrei muovere la tua attenzione ad un fatto di importanza cruciale. Per quanto disgustato e impressionato da queste scene di surreale violenza, non ho mai spento la TV, né tantomeno cambiato canale. Non ci sono mai riuscito. Devo ammettere che all'inizio pensai si trattasse solo di finzione, di messe in scena fatte a regola d'arte, ma presto compresi che tutto ciò che vedevo era reale e che da qualche parte nel mondo quelle cose accadevano davvero. Quelle urla strazianti, quelle follie senza senso, nessuno potrà in alcun modo togliermele dalla testa. Mi chiedo adesso chissà come ti sentirai quando vedai il tuo primo film Snuff. O quando guardando un programma per bambini ti renderai conto di come questi vengano realmente umiliati e maltrattati o, peggio, costretti per gioco a fare del male l'un l'altro. E come reagirai? Cosa penserai guardando uno di quei programmi a premi dove la vittoria finale, il cosiddetto monte premi, rappresenterà la sopravvivenza stessa del concorrente? Io lo so. Io ci sono passato. Non riuscirai a capacitarti di come sia possibile tanta crudeltà. Sarai disgustato per gli orrori che vedrai. Ti pentirai di aver firmato quel contratto maledetto. Ma nonostante questo, come assue fatto da queste magabre visioni, non potrai fare altro che rimanere lì seduto, sul tuo comodo divano. Pare da spettatore alle peggiori crudeltà che si celano annidate nei meandri della folle e bestiale spietata natura umana. Passerai in questo stato diversi giorni, mentre le forze lentamente ti abbandoneranno. Sarai così preso, perduto nella visione di quei programmi, da dimenticare di mangiare, di bere o di dormire. Possessionato da questo malsano intrattenimento, la tua lucidità mentale scomparirà quasi del tutto, per poi tornare, solo per brevi interminabili momenti, a tormentarti. Il tuo animo sarà combattuto, scosso profondamente dalla visione di tutta quella sofferenza iniettata a dosi massicce e a persone innocenti. Ma allo stesso tempo, sarai desideroso di assistere al dolore brutale che a loro verrà inflitto, godendo di esso. Sarai uno schiavo, un prigioniero senza catene, mesmerizzato in posizione fetale sulla poltrona di fronte allo schermo. Assorbito totalmente dalla televisione, sarai prosciugato dalla tua linfa vitale, ridotto a forma di vegetale da un piccolo stupido oggetto elettronico inanimato. Credi che tutto questo sia spaventoso? Beh, credimi, non è questo che devi temere. Ciò che veramente ti terrorizzerà, ciò che ti farà cagare sotto dalla paura, sarà il vederti protagonista di alcuni di questi perversi programmi. Ricordi, il decoder modella la programmazione a tua immagine. In fondo, sei tu stesso che rendi unica la tua televisione. E cosa c'è di più unico che essere il protagonista di uno dei tuoi programmi preferiti? È tutto previsto da quel fantastico contratto. Già, il contratto. Ti ho avvertito diverse volte di leggerlo per intero prima di firmare. Nero su bianco riporta tutto ciò che ti serve sapere per strappare e gettare via quei maledetti fogli. Ma loro, quelli della compagnia, non si preoccupano di questo. Nessuno in fondo legge mai in contratti che firma. Anche io firmai senza leggere. Quando però vedi la mia immagine in televisione, me stesso, torturare sadicamente un povero bambino innocente, lo feci. Lo lessi tutto, paragrafo per paragrafo, postilla dopo postilla. La sorte a cui io vado incontro. È terribile. Ho provato diverse volte a contattare il servizio clienti. Sono stato rimbalzato da operatore in operatore. Come in un gioco perverso. Perdendomi nei meandri di quei cavilli burocratici senza fine. Non ottenendo mai una risposta concreta o una soluzione da qualcuno della compagnia. Ho anche tentato in ogni modo di sbarazzarmi del decoder. L'ho gettato dalla finestra, smontato, preso a martellate e bruciato. È stato tutto inutile. Non fa che riapparire inspiegabilmente collegato al mio televisore. Ancora e ancora. Perfettamente integro e funzionante. E io non posso fare altro che continuare a guardare la tv. Vedi, è così che funziona. Il contratto lo spiega chiaramente. Sebbene il corrispettivo in denaro sia misero, pagherai i servizi offerti dalla compagnia con la tua esistenza. Il decoder si nude della tua anima. Te la strappa via pezzo dopo pezzo. Finché di te non rimarrà che una pallida ombra catodica di ciò che eri. Se sono riuscito a riportare questa testimonianza, è solo grazie a uno dei pochi momenti di lucidità che mi sono rimasti. Probabilmente penserei che queste siano solo le parole di un malato di mente. Ho scritto tutto questo per avvertirti. Che tu sia uomo, donna, giovane o anziano non fa la differenza. Ti prego di ascoltare i miei consigli e di accettare per buone le mie parole. So che qualunque cosa io possa dire comunque tu non mi ascolterai. Ma ti prego, quando riceverai la chiamata, non rispondere al telefono. Se invece lo farai, per quanto sarà difficile, non accettare la settimana di prova. Ma soprattutto, alla fine, non devi, per nessuna ragione, firmare quel contratto. Adesso devo andare. La pubblicità è quasi finita e il mio programma preferito sta per cominciare. Spero solo di aver salva la mia anima ancora per un altro giorno. La pubblicità è un paolo